Aree arredate per la socializzazione e le attività di gioco, manto erboso, pista ciclabile ed uno spazio destinato ad ospitare gli eventi all'aperto. C'è anche una colonnina con il defibrillatore, un piccolo polmone verde ma dotato veramente di tutto, e il nuovo parco urbano che sorge nella periferia nord di Trani in via delle Tufare, il secondo più grande della città dopo la villa comunale con i suoi quasi 12.000 metri quadrati. L'opera è stata finanziata attraverso un programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie che ha consentito la realizzazione di tutto il sistema di marciapiedi a servizio dell'abitato. Questa mattina l'apertura al pubblico al termine dei lavori che hanno portato via anche più tempo del previsto. A fare gli onori di casa il sindaco Amedeo Bottaro. Ci eravamo prefissati all'inizio, tra l'altro del mio primo mandato, di recuperare quelle zone della città che di fatto praticamente erano rappresentate da serpaglie, topi, seppur praticamente a ridosso addirittura di nuove costruzioni o di una parrocchia o di una zona importante che una città come poteva essere ad esempio il parco di via Polonia. Devo dire che a distanza di questi anni è bello vedere queste zone tutte recuperate, questo è il terzo del quattro grandi parchi che oramai sono pronti, stiamo inaugurando, il prossimo lo inaugureremo a prestissimo. Rappresenta sicuramente una grande riqualificazione della città. Un'altra tessera che va a comporre un puzzle, il grande progetto di ricucitura urbana della città. Abbiamo alzato però l'asticella nel senso che voi lo vedete qui, vedete una pista ciclabile che vista così può dar di poco. Questa sarà una pista ciclabile che al contrario porterà alla fine dove c'è murato un passaggio a livello perché ci sarà invece un percorso ciclopedonale che porterà dall'altra parte della città, penso quindi al quartiere di via Andrea e che invece praticamente arriverà da aree della retrostrazione, il binario morto e sarà una pista ciclabile che porterà di fatto all'interno della stazione. Un grande progetto di ricucitura, oggi ne vedete un pezzo per cui quello che sembrava un parco della periferia non lo sarà più, non sarà un parco di una periferia ma sarà il parco del centro della stazione, della Repubblica, di via Andrea, del quartiere Sant'Angelo perché questo è l'intervento che abbiamo pensato, che realizzeremo con i finanziamenti già ottenuti nell'arco dei prossimi 4 anni.